Benvenuti a Romeo Podcast, sicurezza a colazione. Io sono Marta Sangalli e in regia c'è Giulia Rosano. Quest'oggi iniziamo la nostra storia di sicurezza con una frase di James Rison, uno dei massimi esperti di sicurezza, creatore del modello Rison di previsione degli incidenti. Rison diceva, quando in azienda si toglierano prassi insicure l'incidente accadrà, solo che non sappiamo quando. Rison va oltre le singole azioni, esamina le debolezze dell'intero sistema e ancora i comportamenti al contesto in cui è avvenuto l'incidente. Uno degli studi più famosi di questo autore è quello sul disastro della centrale nucleare di Chernobyl. Ne parliamo con la dottoressa Carmelina Morrone, formatore nell'ambito della sicurezza, che alla laurea in diritto del lavoro ha aggiunto studi in psicologia del lavoro. Sì, infatti uno degli studi più famosi di questo autore è quello del disastro della centrale nucleare di Chernobyl. Rison dimostrò che le violazioni compiute erano delle prassi non sicure, che avevano sostituito la procedura di sicurezza. Come mai? Perché la loro applicazione pratica ripetuta nel tempo non aveva mai dato problemi, quindi nessun danno si può fare e continuiamo a farlo. Applicando il modello di Rison si può dire che quando in azienda si tollerano prassi insicure, l'incidente accadrà, solo che non sappiamo quando. Nonostante gli studi di Rison, che risalgono agli anni Ottanta, sappiamo che le cronache quotidiane raccontano che c'è molto da fare per estirpare le cattive abitudini. Carmelina, il caso Chernobyl è citato anche come esempio di management che prende decisioni sbagliate? Ecco qua, Rison, anche in questo caso, collega le decisioni prese al contesto che era il seguente. Gli operatori non avevano le competenze per gestire le variabili negative di quell'impianto, sia per la scarsa preparazione, ad esempio non conoscevano l'impatto del fenomeno dell'avvenenamento da Xeno, sia perché le informazioni in quell'ambiente non circolavano anche per esigenze di segretezza militare. Ma non solo. Il test che provocò l'incidente, come tutti sappiamo, doveva essere svolto dal turno precedente e quindi i lavoratori del turno notturno si sono trovati fra capo collo il test da fare. Quando si leggono gli studi di Rison, si scopre la complessità delle not-technical skills? Sì, a proposito di Chernobyl, facciamo subito questo esempio. A seguito dello scoppio del coperchio del reattore, gli operatori valero a capire se ci fosse stata una fuga radioattiva. Presero gli strumenti a disposizione, i quali misuravano 3,6 Rücken-Ura, un valore che indicava una dispersione molto limitata. In quel momento, con l'impianto distrutto e un incendio in corso, gli operatori si aggrapparono a quel dato, tra virgolette, rassicurante. Le squadre d'emergenza giunte sul posto avevano altri misuratori che però rilevarono 15.000 Rücken-Ura. Perché questa differenza? Nella centrale nucleare gli operatori avevano a disposizione misuratori che potevano rilevare al massimo 3,6 Rücken-Ura. Insomma, per avere la consapevolezza della situazione, gli operatori stavano raccogliendo dei dati. Peccato che avevano strumenti inadeguati. Ma allora ti chiedo, Carmelina, quando sono davvero efficaci le Not Technical Skills? Sono efficaci quando sono all'interno di un sistema efficace. Insomma, cosa era successo? Lo dimostra il caso dei misuratori. Esempio, se noi dovessimo misurare la temperatura di una stanza, abbiamo a disposizione solo un termometro che arriva a 20 gradi, noi facendo questa misurazione, stiamo avendo una consapevolezza della situazione, solo che abbiamo a disposizione uno strumento inadeguato perché per noi quella stanza misura 20 gradi. In realtà, se poi adoperassimo un altro strumento che va fino a una scala più ampia a 50 gradi, rivelerebbe una temperatura di 35. Quindi ecco perché c'è sistema. Sistema proprio perché l'azienda deve poi fornire tutte le strutture, gli apparati, perché ci sia efficienza. Grazie, Carmelina, per questa narrazione interessante e approfondita degli eventi. Nonostante gli studi di Rison risalgono agli anni Ottanta, le cronache quotidiane raccontano che c'è molto da fare per estirpare le cattive abitudini. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento è alla prossima Storia di Sicurezza.